Cos'è la linfoadenopatia ascellare? La linfoadenopatia ascellare è una condizione in cui i linfonodi della regione ascellare comunemente noti come ascella sono ingranditi. La condizione può essere diagnosticata sulla base di un esame fisico o di studi di imaging. I sintomi possono includere dolore o gonfiore sotto l'ascella. La causa della linfoadenopatia può essere diagnosticata utilizzando studi di laboratorio e prendendo una biopsia del tessuto linfatico allargato. Alcune cause comuni della condizione includono cancro, infezione o trauma. Una diagnosi di linfoadenopatia ascellare viene in genere eseguita dopo la scoperta di grumi o protuberanze nella regione ascellare. A volte i pazienti potrebbero notare questi grumi da soli. In altri casi, i medici o altri operatori sanitari potrebbero fare la diagnosi sulla base di un esame fisico completo. A volte, i linfonodi ingranditi possono essere identificati su studi di imaging come le scansioni di tomografia compoterizzata, CT. Mentre alcuni pazienti hanno sintomi associate alla linfoadenopatia ascellare, altri non hanno sintomi. I pazienti potrebbero avere sensibilità o dolore nella regione del linfonodo ingrandito. In altri casi, il gonfiore e l'allargamento potrebbero essere indolori. Trovare l'adenopatia ascellare in un paziente è importante perché serve come indizio che potrebbe indicare la diagnosi di una malattia di base. I pazienti che sviluppano questa condizione dovrebbero sottoporsi a lavori di routine per valutare le malattie sistemiche sottostanti, in quanto i linfonodi svolgono un ruolo fondamentale nel sistema immunitario del corpo. Spesso, i pazienti con grandi linfonodi sottoposti a una biopsia in cui viene utilizzato un ago per prelevare un campione del nodo. Esaminare il tessuto usando un microscopio può fornire indizi critici sul perché si è verificato l'ingrossamento del linfonodo. Vari tipi di cancro possono causare la linfoadenopatia ascellare. Il cancro al seno è una delle cause più comuni di questo esame fisico. Ciò si verifica perché il sistema linfatico del seno drena nella regione ascellare e il cancro tende a diffondersi lungo questa via. I tumori del sistema immunitario, compresi linfoma e leucemia, possono anche causare linfonodi ingrossati in questa regione del corpo. Il melanoma, un tipo di cancro della pelle, è un'altra causa di questo sintomo. Un altro gruppo di disturbi che possono causare la linfoadenopatia ascellare sono le infezioni. Malattie sistemiche, come l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana, human immunodeficiency virus, o Epstein-Barr virus, e BV, possono causare l'infoadenopatia generalizzata che include la regione ascellare. Infezioni più localizzate possono anche causare questo sintomo. Questi possono includere malattie da graffio di gatto, sporotricosi o infezioni batteriche. Grazie. Grazie.